ciao a tutti oggi prepareremo le uova in cocotte con spinaci il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono spinaci lessati e strizzati uova pomodoro tagliato a tatatini sale pepe burro a pezzetti e acqua chiamo il via alla ricetta per la ricetta avremo bisogno delle cocotte ma potrete utilizzare anche gli stampini in alluminio iniziamo posizionando una parte degli spinaci nel fondo della cocotte posizioniamo anche un po di pomodorino tagliato a pezzetti condiamo con un po di sale del pepe e dei pezzettini di burro adesso apriremo l'uovo all'interno della cocotte completiamo tutte le rimanenti tre cocotte versiamo l'acqua all'interno del boccale condiamo con sale e pepe l'uovo posizioniamo nel varoma chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo il bassoio del varoma chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 25 minuti temperatura varoma velocità 1 le uova sono cotte andiamo a servirle uova in cocotte con spinaci grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti